questo qua è un piccolo siame da recuperare in questa scepe qua evitiamo, potremo anche tagliare il ramo ma per evitare di tagliare il ramo basta dargli una scrollata in modo che le api finiscono dentro casomai mettiamo tutti i fogli ceri all'interno li mettiamo già io ho qui alcuni fogli di cera ancora da costruire e altri pelai vecchi che la cera se la costruiscono loro così siamo sicuri dell'intecrità e la qualità della cera se se la costruiscono loro ok, questo qua è lo siame noi dobbiamo fare in modo che vada dentro il più possibile una cosa che potremmo fare è quella di bagnare lo sciame che adesso aspetti, casomai inquadro da vicino vado a prendere lo struttivo ecco qua ho fatto un po' una corsa sul fiatone questo è uno spruzzino di acqua non di vetril che serve per inubidire un po' le api in modo che siano limitate nel volo quando andrò a scrollarle dentro ecco qua basta l'asena, bravo ecco qua sperando che la resina sia andata dentro qui dobbiamo però aprire in modo che vadano dentro e poi qua abbiamo cerchiato di dargli un po' di miele in modo da vedere di convincerle a rimanere dentro ci manca il coperchio ma provvediamo con questo fettino di polistirolo ora portiamo un po' la facettina proviamo di farle andare dentro queste che sono sul bordo in modo da non schiacciarle ok lentamente apriamo anche qua e vediamo se le nostre api a breve vanno dentro vuoi che facciamo una seconda parte tra 5 minuti mettiamo qualcosa perché le api vanno recuperate alla sera perché altrimenti rimerebbero fuori le bottinatrici neanche tanto per la perdita quanto potrebbero creare dei problemi a quelli che circolano mentre se le portiamo via questa sera portiamo via tutto così domani non ci rimane più niente la gente può circolare senza nessun problema ci siamo fatti anche i cartelli ok siamo sotto con la scritta pericolo acqui la maschera ce l'abbiamo ciò non è un problema vediamo qua cosa sta succedendo bene il miele sembra che le possa convincere abbastanza facilmente però conviene a noi fare in questo modo qua fare in modo che loro vadano giù qui c'è un po' di api che loro devono stare giù ok qua questa qua le dobbiamo andare via 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 ok qua per convincerle gli abbiamo dato un po' di miele evidentemente non gli farà male E qua, visto che non arriviamo il suo coperchio, perché quando si chiamano, cerchi di venire nel più breve tempo possibile, ti manca sempre qualche cosa. Dobbiamo darci, ce n'è poco, vediamo cosa... Ah Gino, così, così. Chiudiamo qui. Questa apertura, che è quella dove c'è un po' più di passaggio, lasciamo le api qua, qui, l'avete visto, non c'è rimasto niente, le api sono tutte dentro. Abbiamo finito l'operazione, dobbiamo solo aspettare sera. Ok.